Ciao amici, vi faccio gli auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo, siamo quasi alla fine del 2022 provistando in mezzo al materiale che abbiamo girato in questi anni a Dorgali e dintorni ho trovato dei cimeli molto belli, dei bei reportage che vi propongo di vedere quindi vi auguro una buona visione e ancora Buon Natale a tutti Ciao Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Grazie 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 a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.